Io amo questa donna, io la amo, ti amo Alice D'Amato, facciamo un figlio alla trave insieme. Che cosa hai combinato? Paradisiaca, estasi, delizia soave e pura, incanto e leggiadria. Alice D'Amato, Alice D'Amato, oro nella trave. Oro nella trave. Ma non è finita qui, perché abbiamo preso anche il bronzo con Manila Esposito, straordinario, una finale da brivido, una delle più grandi imprese della storia, del nostro sport. Punteggio, sto leggendo i punteggi naturalmente per non essere impreciso, 14366, la cinese Zhu Yang, 14100, Esposita, Manila, 14000. Mamma mia, poesia. Cosa hai combinato, Alice? La prima medaglia della storia, delle Olimpiadi, per il nostro paese su questo attrezzo. Sappiamo che la ginnastica artistica ci ha regalato grandi gioie, soprattutto gli anelli, no? Con Cassina, ma soprattutto con il re, il re degli anelli, no? Yuri Geki, ma che emozione, che emozione poetica, che è da brividi, è da lacrime, è spaziale. Come si fa a non innamorare, cioè veramente, cioè tu devi innamorarti, cioè Alice deve essere la tua fidanzata. Devi prenderla, la devi accompagnare e ci devi vivere insieme, perché sarebbe poesia. Cosa ha fatto? Che sinuosa, celestiale melodia che ha incantato il cuore di un'Italia interna. Ti amo, ti amo, ti amo.